Desidero farvi vedere questo video che ho preso dal canale Space X di cui trovate il link nella descrizione a 4 ore, 47 minuti e 20 secondi. Osservate con attenzione la fotocamera mentre entra, meglio, mentre passa all'interno. Adesso facciamo andare il video al rallentatore ancora un paio di volte. E ora, dopo aver variato le impostazioni per estrarre altre immagini, oltre ad aver ingrandito il video, andiamo avanti ed indietro diverse volte e vedrete la manipolazione dove la fotocamera sembra che passi attraverso la barra blu, compreso il ginocchio dell'astro non auta. Adesso facciamo lo fotogramma per fotogramma. Osservate bene la barra blu che sembra distorcere poco prima che la fotocamera passi attraverso di essa. Per i vostri approfondimenti e le vostre libere ricerche a disposizione attraverso il sito www.tinelli.eu avete il preziosissimo indice alfabetico con migliaia e migliaia di video, oltre alle indispensabili playlist suddivise per argomenti. Non dimenticate il libro Il Risveglio. Ha colori nel formato e-book, mentre nella versione cartacea è in bianco e nero. Grazie a tutte e tutti. Di no.